Oggi per CNA DataLand ho raccontato come la quarta rivoluzione industriale o il baricentro di questa rivoluzione sia proprio centrato sull'Italia e sull'Europa, quindi questa è una buona notizia perché le altre rivoluzioni industriali ci sono un po' scappate, dopo una prima fase europea si sono proiettate negli Stati Uniti d'America prima sulla East Coast e poi sulla West Coast in Silicon Valley. Oggi per fortuna dal 2011 si parla di rivoluzione industriale e manifatturiera e l'Italia così come il resto dell'Europa torna a essere protagonista. Attenzione però, ho detto, non possiamo pensare di fare gli artigiani piccoli e medi imprenditori come lo facevamo nel Novecento bisogna farsi contaminare dalla cultura industriale che arriva dalla Silicon Valley, ovvero i dati, il digitale. Dobbiamo trasformare le nostre prassi artigianali o di piccola media imprese italiana di cui io ho particolare emozione a raccontare perché mio padre e mio nonno facevano questo uno era un ferra cavalli, l'altro un fabbro serramentista oggi mi occupo di Fab Lab e Digital Fabrication dobbiamo guardare all'artigianato e alla piccola media imprese italiana in questo senso dati, 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 digitale, digitale, digitale non solo verso il cliente nel senso dell'e-commerce o del sito ma dentro la fabbrica, dentro la nostra bottega, dentro la nostra officina dobbiamo digitalizzare tutte le nostre attività fresa controllo numerico, laser cutter, stampe 3D, sensori dell'IoT ecco, so che è difficile perché è tutto nuovo ma dobbiamo cominciare a pensare che il cassetto del Novecento vada chiuso e dobbiamo aprire quello del ventunesimo secolo dove per la maggior parte dei casi troveremo dati viva i dati, viva la rivoluzione industriale, viva l'artigianato italiano Oggi affronteremo un tema molto sentito che è quello dei big data e soprattutto come questi possono essere utili per le giovani imprese anche le piccole imprese soprattutto ci scorremo il tema di cosa sono i big data a cosa servono e come interpretarli proprio oggi che è la giornata di introduzione del nuovo regolamento sulla privacy un tema importante sarà anche quello quindi della sicurezza e della consapevolezza di come questi dati vadano trattati ringraziamo CNA Rimini che ci ospita e tutto il gruppo dei giovani imprenditori che sono qua nel parterre e ovviamente i relatori che sono di spicco e ci aiuteranno a risolvere tutti i nostri dubbi sull'importanza dei big data Devo dire che è un'immensa soddisfazione vedere come quello che abbiamo seminato nel corso degli anni ha germogliato, sta crescendo e praticamente quasi va avanti in modo indipendente dalle persone e da noi vuol dire che su queste tematiche il digitale, i dati che affronteremo oggi CNA sta davvero investendo parecchio io oggi come vicepresidente nazionale reddito anche la delega al digitale come l'ha avuta Andrea nel precedente mandato quindi un segnale che CNA ci sta credendo tanto e soprattutto su queste tematiche data, big data CNA ne sta facendo un suo asset, un suo fondamento per quanto riguarda il nuovo modo di fare rappresentanza Di fatto oggi abbiamo messo l'argomento dati al centro un argomento che sicuramente ha tanti aspetti da analizzare abbiamo voluto portare questo tema del dato connesso perché è di fatto qui la grande opportunità i dati sono sempre esistiti la grande opportunità è poterli connettere fra di loro non solo fra sistemi informativi non solo connettere le persone ma le persone e i sistemi informativi questa grande opportunità apre uno scenario che ad esempio nella dimensione di città può creare un vero grande impatto con lo sviluppo di progettualità nuove, innovative che mettono i dati al centro che sfruttano questi grandi moli di dati questa grande nuova risorsa per realizzare nuove soluzioni per migliorare la vita delle città e dei cittadini lo vogliamo fare però mettendo in connessione non solo i dati ma anche gli attori che non solo hanno questi dati ma possono utilizzare i dati quindi la pubblica amministrazione le piccole e medie imprese le grandi imprese e di fatto anche gli innovatori e le idee le idee condivise, i dati condivisi e tutti questi attori che si incontrano secondo noi sono gli ingredienti necessari per creare le nuove città del futuro le nuove città connesse l'intelligenza artificiale è una delle parole più calde del momento se ne parla tanto se ne parla spesso a sproposito e credo che pochi si appena raccontarla al meglio ma è una parola che bisogna conoscere bisogna essere consapevoli di quali sono le possibilità che offre uno strumento di intelligenza artificiale quali potrebbero essere anche i rischi l'Agide che è l'Agenzia Peritale Digitale è l'Agenzia della Presenza del Consiglio ha provato a lanciare un sassolino nello stagno lanciando un libro bianco sull'intelligenza artificiale al servizio del cittadino raccontando esempi già attuali esempi futuribili ma anche quelli che sono i rischi di un utilizzo distorto di queste tecnologie visto che ci sono e bisogna essere consapevoli soprattutto per quanto riguarda le temi etici la violazione della privacy potrebbero poi portare davvero a un telefilm negativo come Black Mirror e diventare realtà quindi parliamone parliamo di una tecnologia artificiale bisogna chiedere bisogna informarci bisogna raccontarle in maniera semplice questo è il nostro obiettivo ma è solamente l'inizio di qualcosa che deve continuare nei prossimi anni perché è una tecnologia che non ci abbandonerà ma crescerà sempre di più sarà sempre più intessuta nelle nostre relazioni quotidiane nella nostra relazione con la pubblica amministrazione oggi abbiamo parlato di due generi di strumenti il primo strumenti per gestire i grandi dati che già sono a disposizione anche delle piccolissime aziende e che possono essere sfruttati per migliorare sia in ottica marketing che comunque in ottica di movimento verso il cliente di maggior orientamento al cliente dati che possiamo prendere gratuitamente da Google da Facebook dai nostri siti internet e che con veramente poco sforzo possono essere una leva per avere quel numero in più quel supporto in più per prendere una decisione che vada verso l'interesse dell'azienda ascoltando in maniera nuova il cliente il secondo strumento grandissimo che abbiamo visto in funzione oggi è l'utilità di eventi come i CNA Next nei quali persone con problemi simili si incontrano per innovare e uno strumento di questo tipo vuole essere anche il Web Marketing Festival che è molto legato quest'anno a CNA uno strumento nel quale si farà tanta formazione sul Web Marketing e sull'innovazione digitale ma che vuole essere uno strumento che ogni singolo partecipante possa utilizzare per connettersi, per innovare, per cambiare l'opinione che ha sulle cose per capire come quest'onda di innovazione possa essere un acceleratore uno strumento di innovazione per la propria azienda e attraverso la propria azienda per la società oggi abbiamo parlato tantissimo ad Atalanta di dati io in realtà vorrei soffermarmi su quello che è un aspetto molto importante quando si parla di dati perché chiunque può raccogliere dati oggi abbiamo milioni e milioni di dati in realtà uno degli aspetti che spesso tendiamo a tralasciare è la cultura del dato cioè io in azienda nella mia attività quotidiana non soltanto devo raccogliere dati ma devo prendere decisioni su questi dati se io non utilizzo i dati per prendere decisioni ma semplicemente mi limito a raccoglierli senza analizzarli e mi ancorano ancora alle mie assumption o alle mie opinioni sono ancora in una terra di interpretazioni mentre il dato spesso è quello che riesce a guidarmi e può anche portarmi verso un percorso che non è necessariamente quello che io condivido l'abbiamo visto ad esempio nel caso di Booking.com dal mio punto di vista personale potrebbe essere un sito completamente diverso come interfaccia ma quello che abbiamo adesso è il frutto del feedback e dell'interazione che abbiamo ottenuto dai nostri utenti e dell'interazione che abbiamo ottenuto dai nostri utenti e dell'interazione che abbiamo ottenuto dai nostri utenti